Drone di supporto alleato disponibile Paco drone alleato in arrivo Drone di supporto alleato disponibile Volceo alleato in campo Paco drone alleato in arrivo Consiglio al 50%, procedere Scala alleato in arrivo Spende Plane Spende 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. La victoria sarà nostra. La victoria sarà nostra. Eccellente. Eccellente. Trasmetterò il rapporto alla base.